Ciao a tutti amici di Focus Tech e benvenuti alla nostra recensione dell'Epson LS300B un proiettore ad ottica ultracurta, infatti non è il classico proiettore che abbiamo già visto qui sul canale ma è un proiettore che deve essere posizionato il più vicino possibile alla parete su cui andrete a proiettare infatti la distanza dovrà essere tra i 30 e i 70 cm inoltre è un prodotto di fascia alta in quanto viene commercializzato ad un prezzo di listino di circa 2700 euro con tecnologia 3LCD caratteristica di tutti i proiettori Epson risoluzione nativa full HD e dimensioni come vedete voi stesse decisamente generose ma adesso comunque lo vediamo da vicino, lo mettiamo sotto torghi per capire effettivamente se va della spesa e quali sono le differenze con i proiettori classici se vogliamo definire tali tutto dopo la nostra sigla le dimensioni sono decisamente superiori rispetto alla concorrenza infatti raggiunge 467x400x149 mm di spessore con un peso che si gira attorno ai 7,2 kg se state pensando di acquistarlo quindi dovete valutare bene dove posizionarlo in quanto comunque deve essere posizionato o sul pavimento o su un piano di lavoro e ad una distanza non superiore ai 70 cm dalla superficie su cui effettivamente andrete a proiettare è interamente realizzato in plastica di colorazione nera opaca la quale non si sporca né trattiene troppo le impronte e sul lato destro abbiamo una buona dotazione di pulsanti che ci permette di controllare il dispositivo senza ricorrere al telecomando quindi possiamo accendere lo sperlo disattivare la sorgente luminosa oppure regolare il volume e quant'altro appena sotto abbiamo la possibilità anche di spostare lo sportellino per accedere alla messa a fuoco manuale ma naturalmente su questo terminale abbiamo messa a fuoco completamente automatica nella parte posteriore troviamo poi tutta la connettività del caso oltre naturalmente a bluetooth 5.0 e connettività wifi 802.11ac dual band quindi 2.45 GHz abbiamo anche connettività fisica in particolare possiamo affidarci a due prese HDMI una con arca, una micro usb, un'uscita audio digitale coarsiale e naturalmente una usb 2.0 di tipo A per il collegamento fisico ad esempio di sorgenti esterne complessivamente è davvero un'ottima connettività che mi permette e mi amplia le possibilità di utilizzo di base questo Epson LS300B presenta sorgente luminosa laser la quale ha una durata garantita da Epson fino a ben 20.000 ore ma soprattutto è un proiettore con tecnologia 3LCD che avevamo già visto anche qui in passato direttamente sul canale con pannello RGB da 0,61 pollici e C2 Fine la risoluzione nativa è Full HD a 1080p 1920x1080 pixel con rapporto d'aspetto 16 noni elaborazione video ben a 10 bit e soprattutto fino a 1,07 miliardi di colori quindi di base la resa è davvero eccellente parliamo chiaramente di un dispositivo premium proprio perché il suo prezzo di vendita è di circa 2.900 euro e come tale noi ci saremmo aspettati una qualità superiore a tutti gli altri proiettori che abbiamo visto qui su Focus Tech effettivamente questo LS300B va ben oltre le nostre aspettative il dettaglio, la nitidezza e soprattutto l'ampiezza della gamma dinamica sono un qualcosa di unico già nel primo momento in cui lo abbiamo collegato abbiamo notato effettivamente una qualità e un dettaglio superiore alla media molto molto bene e davvero ben fatto grazie anche alla presenza delle varie modalità colore le quali sono suddivise in cinema dinamico naturale e bright cinema le quali potranno essere variate manualmente dall'impostazione del dispositivo in modo da poter scegliere la calibrazione corretta per l'utilizzo che effettivamente ne stiamo facendo la luminosità massima di 3600 lumen risulta essere eccellente infatti noi lo abbiamo utilizzato sia con buio completo ed è naturalmente la condizione ideale ma anche con luce naturale proveniente dall'esterno su una superficie non completamente bianca ed effettivamente abbiamo notato una buonissima resa non in linea naturalmente con la resa ottenuta con il buio completo ma se pensate di utilizzarlo anche in penombra o con un po' di luce sappiate che con questo dispositivo non farete assolutamente fatica l'ottica ha un rapporto di proiezione tra 0,26 e 0,35 a 1 con dimensioni di immagine di proiezione tra 61 e 120 pollici qui notiamo la differenza fondamentale rispetto ad un proiettore standard in quanto questo LS300B non deve essere posizionato ad una certa distanza dalla proiezione o comunque dal muro o dal telo su cui volete proiettare le vostre immagini ma deve essere posizionato il più vicino possibile in quanto la distanza dovrà essere di minimo 30 cm fino ad un massimo di 70 cm dalla superficie di proiezione e dipendentemente dalla distanza potrete oscillare come vi ho detto tra i 61 e i 120 pollici è sicuramente un sistema di proiezione differente da consigliare e più comodo rispetto al sistema di proiezione tradizionale ma che naturalmente deve portare l'utente a valutare bene dove posizionare il dispositivo il rapporto focale dell'ottica è fissato a f1.6 con una distanza focale di 3,7 mm e rapporto di contrasto ben 2,5 milioni a 1 per facilitare il posizionamento il dispositivo presenta dei piedini che possono essere svitati i quali raggiungono una altezza differente infatti potranno oscillare di circa 2 o 3 cm niente di più in modo da riuscire ad alzare o abbassare l'inquadratura anche se questa differenza non è poi così marcata all'interno del dispositivo abbiamo sistema operativo Android TV quindi un plus non da poco proprio perché presenta Google Chromecast interato per la trasmissione diretta tramite ad esempio i propri dispositivi Android senza la connessione o il collegamento diretto del dispositivo stesso e naturalmente la presenza del Play Store ciò sta a significare che noi come ad esempio sulle TV Sony Bravia possiamo installare qualsiasi applicazione o comunque le applicazioni per Android TV in modo da accedere ai servizi di streaming senza dover ricorrere ad un dispositivo di terze parti mi vengono in mente ad esempio Netflix e Disney Plus sono tutti presenti su Android TV quindi dopo averle scaricate e aver effettuato il login voi potrete accedere tranquillamente al servizio Android TV è molto molto buona e sicuramente risulta essere più versatile rispetto ad un dispositivo che non la intera tra le varie impostazioni che noi possiamo raggiungere da questo LS300B naturalmente abbiamo la correzione Keystone la quale può essere effettuata solo da un punto di vista digitale non abbiamo il pulsante fisico per effettuarla la messa a fuoco è completamente automatica oppure può essere regolata anche manualmente tramite la levetta che abbiamo visto in precedenza e naturalmente avendo Android TV abbiamo la possibilità di sfruttare l'assistente Google sfruttando proprio il telecomando con microfono interato o il microfono interato direttamente sul dispositivo noi possiamo chiedere qualsiasi cosa all'assistente virtuale e effettivamente ottenere risposta e raggiungere le funzioni senza doverle cercare all'interno dei menu o delle impostazioni varie tra le ultime funzioni da segnalare ricordiamo essere possibile utilizzare questo LS300B anche come altoparlante grazie alla connettività Bluetooth soprattutto noi possiamo collegare direttamente un dispositivo una sorgente musicale e trasmettere l'audio senza naturalmente attivare la sorgente luminosa la quale nella parte superiore presenta anche un comodissimo sensore potremmo definirlo di prossimità il quale disattiverà la sorgente nel caso in cui riconoscesse un ostacolo o quant'altro in modo da evitare problemi per l'utente che si avvicina al dispositivo tornando a parlare dell'altoparlante nella parte anteriore grazie alla collaborazione con Yamaha noi abbiamo un altoparlante stereo da ben 20 watt rispetto ad esempio ad altri dispositivi anche premium con altoparlanti pensati da soli 5 watt il quale mi permette di raggiungere un volume molto molto elevato infatti se volete utilizzarlo in un ambiente particolarmente grande questo LS300B fa al caso vostro e l'audio è di altissimo livello infatti la qualità audio la possiamo definire quasi sopraffina con un volume potentissimo, dettagli e nitidezza di altissimo livello i bassi ci sono, sono abbastanza corposi chiaramente non sono allo stesso livello di un altoparlante fisico però devo ammettere che in confronto rispetto ad altri proiettori sono più importanti sebbene non siano invasivi o troppo prepotenti molto buono anche l'audio il quale grazie ad un volume particolarmente elevato riesce a surclassare la rumorosità infatti questo LS300B ha una rumorosità che oscilla tra 23 e 37 decibel dipendentemente dalla modalità di utilizzo e devo ammettere essere una rumorosità in linea con quelli che sono gli standard che abbiamo visto in passato anche su altri proiettori e soprattutto una rumorosità non eccessiva non va a scaldare troppo, non ha una ventola troppo troppo rumorosa poi essendo relativamente lontano dal soggetto che effettivamente sta utilizzando il dispositivo lo sentirete molto molto meno e grazie proprio al volume elevato di buon livello non darà poi così fastidio anche ad esempio nel momento in cui stiate guardando un filmato con un audio non particolarmente importante in conclusione questo Epson LS300B è davvero un eccellente proiettore che vale la spesa di 2700 euro circa infatti dopo aver provato anche vari proiettori di casa Epson la differenza tra un dispositivo che comunque costa sui 1100 euro e questo si nota e si nota soprattutto sulla risoluzione, dettagli e colori che questo dispositivo è effettivamente in grado di proporre all'utente che lo andrà ad acquistare ma come al solito parliamo di aspetti positivi e di aspetti negativi tra gli aspetti positivi hanno proprio la qualità delle immagini proprio perché mi ha stupito piacevolmente la capacità di questo dispositivo di riuscire nonostante comunque abbia risoluzione nativa full HD quindi una risoluzione nativa in linea con tanti altri proiettori anche da 1000 euro ma dicevo riesce a garantire dettaglio, nitidezza e soprattutto colori davvero precisissimi pensate abbiamo elaborazione a 10 bit con 1,07 miliardi di colori per capire quali sono effettivamente tutte le sfumature che questo dispositivo sarà in grado di proporre all'utente che vi si avvicinerà è davvero eccellente la resa video in ogni condizione di luce in quanto la luminosità massima è un altro aspetto molto importante da sottolineare su questo prodotto in quanto può essere tranquillamente utilizzato anche nella penombra quindi se lo volete acquistare ad esempio per posizionarlo all'esterno sappiate che sarà anche in grado di fornire un'ottima resa nel momento in cui lo guarderete verso sera quindi senza ad esempio buio completo quindi molto bene sia la qualità delle immagini che la luminosità massima in secondo luogo mi è piaciuta la connettività e soprattutto il sistema operativo in quanto ha come avete sentito nel corso della recensione Android TV e effettivamente è un sistema con luce e ombre ma soprattutto è un sistema versatile in quanto è presente anche su molti televisori mi vengono in mente ad esempio le tv Sony Bravia di ultima generazione ed è un sistema che permette di accedere al Play Store quindi installare tante applicazioni come Netflix, Disney Plus o soprattutto YouTube tutto senza dover ricorrere ad altri dispositivi inoltre essendo Android TV abbiamo possibilità di sfruttare Google Assistant quindi inviare comandi vocali sfruttando anche il telecomando presente in confezione oppure naturalmente la presenza di Google Chromecast interrato in questo modo senza dover installare software di terze parti senza dover collegare dispositivi io potrò trasmettere a patto che siano entrambi nella stessa rete da un qualsiasi smartphone Android o ad esempio anche altri dispositivi naturalmente con lo stesso sistema operativo quindi una versatilità virtuale molto molto ampia estesa ancora di più dalla presenza di vari connettori come avete visto nella parte posteriore queste due HDMI, una ARC e anche la USB di tipo A per la trasmissione di contenuti sono un buonissimo insieme per un terminale che naturalmente riesce a garantire prestazioni e versatilità estreme questi sono stati gli aspetti più importanti in aggiunta chiaramente anche al comparto audio infatti mi ha stupito piacevolmente vedete è molto grande abbiamo altoparlanti sfero da 20 watt realizzati in collaborazione con Yamaha e effettivamente si nota la differenza abbiamo un volume altissimo un dettaglio, una nitidezza decisamente superiori a tutti gli altri dispositivi che io abbia mai provato quindi come avete potuto notare parlando delle caratteristiche principali abbiamo tante tante positività che vi vanno a giustificare un prezzo così elevato dall'altro lato della medaglia abbiamo due aspetti negativi il primo è proprio il prezzo sebbene io vi abbia detto che vale la spesa effettivamente 2.700 euro sono tanti soprattutto nel 2021 considerati i problemi economici di molti di noi e quindi è un prodotto molto di nicchia difficilmente raggiungibile a patto o a meno che vogliate davvero un prodotto eccellente e abbiate un budget quasi illimitato per l'acquisto di un proiettore per la vostra abitazione in secondo luogo parlo proprio delle dimensioni infatti è un aspetto negativo proprio perché è un dispositivo da circa 40 cm per 50 un po' meno però per darvi l'idea con un peso di 7,21 kg quindi nel momento in cui l'utente va ad acquistarlo deve già pensare anche a dove posizionarlo perché essendo ad ottica ultracorta deve essere posizionato il più vicino possibile o comunque come vi ho detto non più di 70 cm dalla parete su cui andrete a proiettare e quindi bisogna avere lo spazio bisogna avere immaginato anche già il mobile effettivamente su cui posizionarlo sebbene una volta poi posizionato anteriormente sia molto bello da vedere via quella sensazione anche di elemento d'arredo ma a prima vista almeno questa è stata l'ammirazione quando l'ho visto la prima volta mi sembra molto uno scanner una classica stampante di casa Epson questi sono stati però gli aspetti negativi quindi dimensioni effettivamente molto molto elevate io di così grandi proiettori non ne ho mai visti e prezzo che allo stesso tempo risulta essere altissimo per la maggior parte di noi nonostante tutto però mi è piaciuto in quanto comunque riesce a garantire un'ottima qualità audio video riesce ad avere una rumorosità non particolarmente elevata e effettivamente la differenza con un proiettore normale quindi un proiettore con ottica standard da posizionare distante dalla parete su cui si va a proiettare si nota nonostante tutto io lo acquisterei e lo consiglierei a pieni voti se il nostro video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace qui sotto naturalmente iscrivetevi al nostro canale per essere sempre aggiornati su tutti i futuri video